Carissimi fratelli e sorelle, la prima lettura della seconda domenica di Pasqua, che quest'anno cade il 19 aprile, è un brano tratto dal capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, versetti dal 42 al 47. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Dando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Questo brano si colloca appunto nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, che comincia con l'evento della Pentecoste. Questo evento della discesa dello Spirito Santo causa questo annuncio da parte di Pietro. E questo annuncio, a sua volta, causa le prime conversioni. Persone che si sentono trafiggere il cuore, si chiedono cosa devono fare, vengono invitati alla conversione e al battesimo. E subito dopo si dice, si fa questa specie di sommario, di riassunto di come viveva questa comunità cristiana, nata dagli Apostoli e dalla loro prima predicazione. Evidentemente è un richiamo per tutti noi. Cioè il frutto della Pasqua che noi celebriamo in questo tempo dell'anno liturgico ha a che fare anche con come si vive la comunità. Cioè un frutto della fede in Gesù morto e risorto consiste evidentemente in un nuovo stile di vita che contrassegna i discepoli del Signore. E questo riassunto ci fa presente alcuni degli elementi fondamentali della vita cristiana di fronte ai quali possiamo vedere a che punto siamo, testare la nostra personale conversione, il nostro cammino, renderci conto di quanto questa buona notizia della Pasqua ha attecchito e attecchisce oggi in noi. Ecco, ad esempio c'è una vita liturgica da parte della comunità. ascoltare l'insegnamento degli Apostoli essere in comunione gli uni con gli altri vivere le preghiere e anche la frazione del pane uno dei primi nomi con cui è stata indicata l'Eucarestia. E già qui possiamo renderci conto, no? Quanto non è facile ascoltare e conoscere bene l'insegnamento dei successori degli Apostoli che sono oggi, che sono i Vescovi in comunione con il Santo Padre così come tutto il deposito della parola di Dio che noi troviamo nella Sacra Scrittura e anche come si è concretizzata nella vita della Chiesa quella che noi chiamiamo la tradizione piuttosto che, ad esempio, le vite dei Santi tanto per fare un altro esempio. Vivere la dimensione della preghiera non è facile perché nelle nostre case o per coloro che devono recarsi sui loghi di lavoro la tensione maggiore che questo spostamento e queste attività comportano nello stato presente per quanto noi vediamo che sia opportuno pregare in questa situazione può darsi che magari le nostre paure in qualche modo blocchino il nostro pensiero quando va verso la preghiera. C'è un riconoscimento della autorevolezza degli Apostoli basato sul fatto che il Signore ha dato loro delle prerogative particolari e c'è un senso di timore che in questo frangente non è inteso secondo l'accezione negativa di paura umana ma quanto piuttosto nel rispetto e nell'amore non tanto perché si fa delle persone un idolo ma in quanto si riconosce in esse nel loro insegnamento in questo caso degli Apostoli una presenza del Signore che in qualche modo viene percepita dal senso della fede dallo spirito che abita in noi bene, noi dovremmo essere sempre in grado di riconoscere la presenza del Signore in tutti evidentemente in quali forme si manifesta ecco, noi siamo capaci di riconoscerla in tutti e siamo incapaci di riconoscerla anche in quelle persone che il Signore nella sua provvidenza ha messo al nostro fianco perché ci possano aiutare nella crescita della nostra fede e io me lo devo chiedere per me stesso ognuno di voi immagino farà altrettanto la dimensione della condivisione dei beni è molto bello che in questo in questo tempo surgano numerose iniziative di condivisione di dono ecco però questo è necessario che sia un qualcosa che fa parte della nostra vita in una forma strutturale e allora chiediamo al Signore che noi possiamo avere sempre questa disponibilità poter vivere questa dimensione del dare del donare in una forma che è in continuità con la nostra fede cioè che non è semplicemente una cosa in più da fare ma che lo viviamo come una dimensione in qualche modo come dire che c'è qualcosa di naturale come il nostro respiro certo per le cose che riguardano il nostro rapporto con i beni materiali nessuno si potrà mai dire immune perfetto e totalmente distaccato sarà sempre un combattimento con un tipo di tentazione che si ripresenterà a volte in modo anche nascosto ai nostri occhi alla nostra mente al nostro cuore e in questo nel caso di questo brano questo atteggiamento con il quale si dona e si divide si compartisce con gli altri è accompagnato da una dimensione molto bella quella del prendere i pasti con letizia e semplicità di cuore ecco quante volte noi non siamo contenti anche se abbiamo il minimo per il sostentamento e probabilmente anche qualcosa di più e quante volte il nostro avere quello che c'è necessario è poter mangiare il nostro pane non è accompagnato dalla semplicità di cuore ma da tanti pensieri del tipo ma chi è che ha di più ma perché io me lo devo faticare così tanto e quello che io ho donato agli altri chissà che ci faranno allora non so se è meglio donarlo insomma tutti i pensieri molto semplici che fanno parte della vita di tutti i giorni con i quali ci confrontiamo e di fronte ai quali dobbiamo chiederci quale parte di questi pensieri è secondo il Vangelo di Gesù l'atteggiamento di Gesù il cuore trasformato dall'evento della Pasqua di Gesù e quali invece richiamano per rifarci a un linguaggio diciamo più di San Paolo un uomo vecchio un uomo attaccato a se stesso che non va verso il Signore e verso i fratelli e che è attaccato più alle cose e ai propri progetti ecco c'è un atteggiamento di lode attenzione a non farci rubare la lode perché è necessario coltivare questo aspetto dentro di noi fare attenzione ai motivi per cui è bello e giusto lodare il Signore c'è un salmo che dice benedirò il Signore in ogni tempo come si fa a benedire il Signore in ogni tempo lo possiamo benedire quando le cose vanno bene lo possiamo benedire quando ci sentiamo più vicini a Lui ma come si fa a benedire il Signore in ogni tempo ecco la comunità dei fratelli ci aiuta anche in questo la presenza del fratello la sua testimonianza di fede quello che fa e quello che dice con rettitudine con sincerità aiuta anche me a poter benedire il Signore in ogni tempo ma la crescita di numero della comunità non è tanto un'opera delle belle capacità degli apostoli e di coloro che li hanno ascoltati ma è il Signore è il Signore che aggiunge nuovi membri alla comunità è nel Signore il potere di fare nuovo tutto è nel Signore il potere di salvare ed è per questo che è necessario oltre che a dare la nostra disponibilità al Signore per fare quello che è necessario per costruire la comunità essere costruttori di unità e di comunione è anche necessario sapere che il fratello non è un nostro possesso ma appartiene al Signore e che noi quello che lo facciamo lo facciamo anche affidando al Signore i nostri fratelli ecco il nostro essere attivi e il nostro affidarci al Signore di fronte alla presenza e alla necessità del fratello non sono due dimensioni che si escludono ma tutt'altro si includono e bene e allora ecco chiediamo al Signore di poter noi essere questa nuova comunità e riscoprire la profondità delle relazioni tra di noi laddove alcune dimensioni umane molto importanti vengono a mancare abbiamo un'opportunità profonda in questo periodo di poter scoprire ciò che è alla base di queste manifestazioni umane cioè il fondamento nella fede in Gesù l'unità profonda che non dipende per forza dalla possibilità di incontrarsi fisicamente laddove questo non è possibile che il riscoprire questa profondità questa essenza questo nucleo ci aiuti sempre di più a saper agire in prospettiva di costruzione della comunità grazie a tutti